Continua la collaborazione tra FST e la BTO, quest'anno 2010, terza edizione, si concretizzerà in diretta, in streaming e molto 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 alto. Siamo davvero felici di rinnovare questa partnership, abbiamo tenuto a battesimo la BTO nella prima edizione, quindi siamo al terzo appuntamento, programma ricchissimo, è un'esperienza per chi si occupa di promozione del territorio, di marketing territoriale, di promozione online, un'esperienza assolutamente unica nel panorama italiano. Firenze e la Toscana quindi si accreditano ancora di più come il punto di riferimento per chi è impegnato su questa frontiera innovativa.